Breitling Monbrilliant, il cronografo dal fascino retro che celebra la storia dell'aviazione. Il Breitling Monbrilliant fa parte della famiglia NaviTimer, una delle più celebri e apprezzate di Breitling. Come tale, presenta la caratteristica lunetta girevole con regola di calcolo, che permette di effettuare vari calcoli matematici e conversioni utili per i piloti. Inoltre, dispone di una funzione cronografica, con contatori dei secondi, dei minuti e delle ore. Le lancette a forma di foglia e gli indici orari luminescenti contribuiscono a una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La scala tachimetrica è posizionata sul bordo esterno del quadrante, mentre la scala telemetrica si trova sul bordo interno. Al centro del quadrante, si può ammirare il logo Breitling in stile vintage, a ore dolci. È incastonata una piccola B in oro rosa nella lunetta, un dettaglio di grande eleganza e che lo rende un cronografo dal fascino retro. Breitling ha creato diverse varianti del Breitling Monbrilliant. Monbrilliant 01, il modello base della collezione, dotato del calibro Breitling 01, un movimento meccanico a carica automatica con una riserva di carica di 70 ore. Monbrilliant datora, il modello più completo della collezione, equipaggiato con il calibro Breitling 21, un movimento meccanico a carica automatica con una riserva di carica di 42 ore. Oltre alla funzione cronografica, offre anche una data completa, giorno, data e mese, una fase lunare e un secondo fuso orario. Monbrilliant Legend, il modello più grande della collezione, dotato del calibro Breitling 23, un movimento meccanico a carica automatica con una riserva di carica di 42 ore. Monbrilliant 1903, il modello più speciale della collezione, creato in onore del centenario del primo volo dei fratelli Wright, è dotato del calibro Breitling 35, un movimento meccanico a carica automatica con una riserva di carica di 42 ore.